La festa di San Gaudenzio a Crucinallo quest'anno ha avuto un sapore del tutto particolare perché è coincisa dopo due anni di lavoro con il restauro del campanile. Un bello evento per la comunità di Crucinallo, Alessio. Dopo due anni di lavori reali dal mese di agosto fino al mese appena passato e ringraziando in particolare non solo i privati che hanno aiutato con sovvenzioni e offerte ma anche la fondazione comunitaria VCO, la fondazione CRT e la fondazione Cariplo che attraverso alcuni bandi ci hanno aiutati ad arrivare a questo obiettivo. I lavori si sono svolti a regola con il benestare della soprintendenza. Questa è tutta l'occasione anche per chi non è di Crucinallo per scoprire una singolare tradizione, quella della verza in bella vista. Tra l'altro quest'anno si è cercato anche di fare un po' di ironia perché a vincere è stata la verza virus. Insomma il coronavirus ha ispirato anche l'arte e la fantasia delle casalinghe e delle signore di Crucinallo. Ma come è nata? Perché questa tradizione così particolare? La tradizione della verza in bella vista a Crucinallo si perde nella notte dei tempi. Quindi è una tradizione molto antica legata quindi a quelli che sono i frutti della terra del periodo invernale. Si ricorda che la verza è la tipica verdura, frutta di questa stagione ed è legata anche alla tradizione di San Gaudenzio che è il mercante della neve e al miracolo dei fiori ecco che ricorda insomma il fiore che Novara ogni anno, la città di Novara offre al suo santo patrono. E quindi ogni anno c'è qualcuno che con la fantasia si sbizzarrisce a rendere bella questa verza e quindi partecipare a questa gara molto particolare.